Benvenuti in Don Baits. Don Baits è un rinomato marchio di orologi svizzero che porta con sé una forte influenza italiana, grazie al suo fondatore, Dominic Baits, nato a Torino. La storia di Don Baits inizia come designer di gioielli, ma la sua passione per gli orologi lo ha spinto a creare il suo marchio distintivo, fondendo l'artigianato svizzero con uno stile fortemente ispirato alla natura, all'arte e alla cultura italiana. Tra i modelli più iconici di Don Baits troviamo lo Snake, un orologio solo tempo che incarna l'eleganza serpentina. Il modello Crono, un orologio cronografo, che presenta tre contatori e una finestrella per la data. E il modello Diver, un orologio subacqueo che combina stile e funzionalità con una resistenza all'acqua di 20 atmosfere. Insomma, Don Baits è molto più di un semplice marchio di orologi, è un connubio affascinante tra la precisione svizzera e la passione italiana. Ogni modello racconta una storia unica, incastonando l'arte e la natura nei minimi dettagli. Se sei alla ricerca di un orologio che unisca stile, eleganza e qualità, Don Baits è la scelta perfetta.